La famiglia di Nando Orfei, con la più giovane della famiglia Orfei tutta, cioè Gioia, appena 14 anni, antipodista. Debutta stasera, amici degli spettatori, questa ragazza, Gioia, 14 anni, figlia di Nando Orfei. Mentre la mamma Anita sta a guardare con molta attenzione, questa ragazza si è allenata e stasera è il suo debutto in società, nella società così multicolore, così faticosa del circo equestre. E Gioia, 14 anni, figlia di Nando. Ed ecco papà Nando, papà Nando che ha conquistato qualche chilo ma non ha perso l'antico smalto. Vai Nando! E' un ritorno alle origini! Bravo! Considerato dagli esperti uno dei più grandi giocodieri, si è allenato in questi giorni a Montecatini per fare questa sua run 3 in occasione della festa. E c'è, vieni qua, vai, 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 che è la tua serata, vai, vai, vai. Eeeh! Bene Nando! E dopo Gioia, la giovanissima figlia della coppia Nando Anita, e dopo papà Nando che sta per fare questa run 3, signore e signori, vi presento la primogenita della famiglia di Nando Orfei, Ambra Orfei! E' una bellissima festa di famiglia, vai, Ambra! E' una bellissima festa di famiglia, vai, Ambra! E' una bellissima festa di famiglia di Orfei, e anche la bellezza degli Orfei, in Ambra! Adesso con i tre mattoni, l'ultimo numero della famiglia di Nando! E' una bellissima festa di famiglia di Nando! E' una bellissima festa di famiglia di Nando! E' una bellissima festa di famiglia, come gli stai qo ioia e Boga! E' una bellissima festa di famiglia di Natogg De Greggio, e Andra Orfei.